Quanto mi piacerebbe fare un video dei miei soliti recappi di calcio-mercato ma ragazzi miei non è che sono sparito, non voglio pubblicare contenuti e video ma come avete ben visto tutti dal primo luglio ad oggi si è parlato di Llorente e Christensen e Llorente, Llorente e Christensen e Christensen e Llorente Llorente è arrivato, definitivo e adesso se li sta riparlando un'altra volta si porta avanti sempre e solo Christensen che non fare ormai, addirittura d'arrivo con la stessa formula di Llorente in prestito secco ma altre novità, le esigenze della Roma dove sono? dove sono? ma la domanda principale dato che dal primo luglio ad oggi che è 11 non si sa più niente di Pinto, dove sta Pinto? perché il mercato è vero che ha aperto ufficialmente il primo luglio ma dal primo luglio in poi il buon Pinto se n'è nato in vacanza per me è proprio sbagliata la modalità nel senso è sbagliato proprio il momento per andare in vacanza perché ci sono delle esigenze soprattutto a livello di prima punta la Roma sta senza punta tolto Ebrome che è infortunato non si può girare con Belotti non potremo girare ancora con Belotti 38 partite, 33 giocate, 0 cotate che stanno a parlare vuol dire che c'è un'esigenza e qui tutto tace se parla di Morata, se parla di Scamacca che è ancora l'obiettivo numero 1 e poi se parla di Sabitzer che è l'obiettivo numero 1 per il centrocampo da Roma e poi da Sabitzer si è parlato di Camatà e poi da Camatà siamo arrivati a Camatò e fra un po' arriviamo a Camatò capito? Con la N al finale raga, il problema è che qui se la cantano e se la sanano tutti qua ci sono delle esigenze a me piacerebbe capire quando torna il signor Pinto perché ad oggi come va portato un'esclusiva l'altra settimana il signor Pinto avrebbe una stanza prenotata a Lilton di Londra che ancora ad oggi mi confermano che non è arrivata ancora nessuna disdetta dicono del Pinto che già sta a Roma ma di Pinta a Roma non c'è traccia Pinto dove sei? Pinto dove sei? Io vi dico la verità non so uno che vuole ammazzare il direttore sportivo perché per me a giugno ha fatto un ottimo operato a livello di uscita, a livello di entrare non gli posso di niente ma leggera preoccupazione ma come penso io penso un po' tutti i tifosi della Roma o quasi vivano un po' le preoccupazioni perché la Roma ha delle esigenze e quella su tutti lo ripeterò fino ad asfissiare è il discorso attaccante la Roma deve avere la sua prima punta non si scordano che oggi è 11 ma il 20 agosto la Roma gioca in casa l'Ernitana e non poteva andare a giocare con Belotti pure le stesse stories di Murigno che ha caricato ieri al primo giorno del ritiro su Instagram che ti mette la tabella col modulo e ti mette proprio ben evidenziato dove ci sono le carenze e lui ti ha chiesto un centrocampista e una punta Murigno vorrebbe Morata e vorrebbe ovviamente Sabitzer solo che fanno uscita la Roma che Sabitzer è insostenibile dei pollici posso anche credere perché c'è un costo del cartellino elevato e poi per politica la Roma non investe mai sui giocatori dei 30 anni in su tanti soldi ma proprio per politica tralasciamo poi che non è non è sostenibile per le casse della Roma ma proprio per politica Sabitzer invece che è comunque sia sostenibile al momento interessa ma non c'è stato un vero e proprio approccio Morata è insostenibile fanno sci ieri sera notizia da rimarci che è insostenibile 12 milioni di euro teclaro sulla recissoria al giocatore capirai gli esparmi al contratto a 4 anni ci rientri tutto è diventato insostenibile pure quello ma se quello è insostenibile quello è insostenibile ma chi cazzo abbiamo punto di domanda allora ecco perché dico che c'è un po' di preoccupazione no ma l'umore non sto a tira la riga non sto a fare il bilancio negativo ripeto sono 7 giorni se fino a prima 7 giorni fa fino a 7 giorni fa davamo fiducia io do fiducia ancora a Pinto la Roma e poi non mi scordo mai che i migliori occasioni nei mercati precedenti i migliori botti dei mercato nelle vecchie nelle vecchie sessioni dei mercato sono sempre arrivati verso fine luglio da fine luglio in poi quindi rimango fiducioso ma due pensieri ripeto mi vengono ma come vengano a tutti io non voglio mettere allarmismo non voglio fare polemiche però vorrei capire insomma che la Roma c'ha queste esigenze prima gli si consegni a Murigno sta squadra pronta è meglio se stiamo perché ci va a lavorare e poi non si scordano che è il terzo anno questo è il terzo anno di Murigno e qui nolente o dolente la Roma deve essere pronta per battagliare e cercare di rientrare in Champions League al terzo anno a tutti i costi e poi la società non è che gli si chiede chissà che cosa ma se t'ha fatto tu nomi non ti dico le pialli tutte e due ma perlomeno uno solo a Murigno io volemo piare mettiamolo in condizione di lavorare che poi se si floppa i discorsi sono diversi non te la pica la dirigenza che non gli ha preparato capito non gli ha dato una squadra pronta tu dai in tante rinforzi che ti ha chiesto perlomeno uno e poi i conti si tireranno a fine stagione ripeto io rimango fiducioso non voglio fare l'armismo però mi piacerebbe un'accelerata un capito un andare avanti nel nostro mercato per cercare di consegnare il prima possibile una rosa pronta a José Murigno punto altre cose ripeto altre cose Morada già vi ho detto Morada sembra che come dicono è insostenibile e per me sarebbe sostenibile sformandogli ingaggio De Polle lo sapevo che è insostenibile è sostenibile però dice Di Marcio che al momento il Bayern Monaco lo vuole soltanto cedere e non apre neanche al prestito con l'obbligo di riscatto perché a Marat non ci è mai stato niente in Italia solo il Milan è interessato a Marat la Roma manco ci ha mai messo il naso manco ci ha mai messo bocca niente un pur parlay niente di niente 100% poi gli sviluppi e gli scenari possono sempre cambiare ma ad oggi è questa la situazione e poi pesca manca vabbè non mi imporre per l'attacco però bisognerà lavorare sui fianchi per addolcire questo questo in prestito con diritto non te lo dà toccherà mettere qualche soldino per lo meno per fare il prestito neroso ma quando lo famo quando lo famo speriamo il più presto possibile io non so quello che ne pensate voi ripeto zero allarmismo fiducia i migliori colpi arrivano sempre verso fine luglio inizio ed agosto andiamo avanti e intanto se qualcuno capito ci danno la notizia di Pinto se Pinto ci manda il segnale di fumo e ci fa il capito sarebbe già qualcosa fatemi sapere quello che pensate voi io vi auguro una buona serata stasera ci dividiamo per l'angolo romano sulla chat viola vi se vorrei bene sempre forza Roma ripeto fiducia continuiamo a dare fiducia ma Pinto svegliere più dai e forza Roma paria grazie a tutti